Non trova pace la situazione sulla carenza pediatri negli ambiti territoriali della Val Pescara e dell'area Vestina. A far chiarezza, dopo le proteste dei genitori a cui hanno fatto eco le accuse del Partito Democratico, ci ha pensato l'assessore regionale con delega alla salute Nicoletta Verì. La regione ha sempre messo in campo ogni azione utile per sopperire alla carenza di pediatri di libera scelta, le parole dell'assessore, e continuerà a farlo anche alla luce del nuovo accordo nazionale sottoscritto pochi giorni fa. La regione, nel rispetto degli accordi sottoscritti con le organizzazioni di categoria, sta cercando di trovare una soluzione definitiva. Per questo l'assessore chiama in causa anche il governo nazionale e il ministro Speranza, a cui è stata inoltrata una richiesta di parere che al momento non hanno ricevuto risposta. Il nuovo accordo nazionale conferma il precedente rapporto ottimale con l'istituzione di un pediatra ogni 600 bambini, di età compresa fra 0 e 6 anni, senza alcuna novità rispetto al 2005. La nuova intesa prevede che le regioni possano modificare questo rapporto, ma solo nell'ambito dell'accordo integrativo regionale, che deve essere dunque sottoscritto anche dalle organizzazioni di categoria dei pediatri. Prevista anche l'istituzione di nuove sedi a livello di singole asle, ma sempre dopo il parere del comitato aziendale, ma in questo caso, prosegue l'assessore Veri, è facile il rischio contenzioso. Va sottolineato come il rapporto tra i pediatri e le asle non è di dipendenza, ma di convenzione, dunque non c'è nessun obbligo nella scelta delle sedi di destinazione, e così complice anche il calo demografico a risentirne sono soprattutto le aree interne. Per questo, in sede di rinnovo dell'accordo integrativo regionale, verrà sottoposta anche l'opportunità di rivedere i rigidi parametri per l'istituzione di nuove sedi. L'assessore infine rimanda al mittente le accuse. Il Partito Democratico sta interpretando le disposizioni a piacimento. È stata raggiunta Marsiglio per la prima volta a trovare un'intesa per aumentare il massimale dei singoli pediatri nelle aree dove si registravano disagi.